Questo ha un impatto dieci volte superiore a una classica presentazione dove andremo a dire buongiorno a tutti, sono qua a presentarvi la mia nuova applicazione che si chiama Broadcaster Forever. No, senti, chatti, fammi un altro test, un altro test, un'altra domanda, sempre dal punto di vista della comunicazione. Certo Panoz, ecco un'altra sfida per te. Immagina che Giulia stia per presentare un nuovo prodotto tecnologico durante una conferenza. Vuole rendere la sua presentazione dinamica e coinvolgente. Quale tra queste opzioni potrebbe essere la migliore? Mostrare un video dimostrativo del prodotto in azione con testimonianze di utenti soddisfatti. Utilizzare grafici complessi per mostrare le specifiche tecniche del prodotto. Tre, iniziare con una lunga introduzione sulle sfide del settore tecnologico. Vabbè, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. La risposta esatta è quella di utilizzare delle testimonianze reali. Questa, secondo me, è la risposta esatta. Dimmi se è quella e poi andiamo a cercare di capire meglio come articolare questa tipologia. Le altre due sono da scartare. Esatto. La risposta migliore è la prima. Mostrare un video con il prodotto in azione e testimonianze... Allora, sentici, a me è venuta questa idea, no, per quanto riguarda la cosa. Ovviamente va introdotto in qualche maniera, però io cercherei di mettere ancora un po' di pepe su questo e farei una sorta di, adesso te la dico come mi è venuta in mente adesso, una sorta di serie TV. E quindi faccio vedere una intro, una slide introduttiva, che è, supponiamo che il prodotto si chiama Broadcast Forever. È un prodotto che trasmette ovunque, dappertutto, delle immagini che hai sul cellulare. Adesso mi sono inventato questo prodotto. Broadcast Forever lo facciamo diventare una serie TV. E quindi, all'inizio, dico, ragazzi, vi faccio vedere il primo episodio di una serie TV esclusiva. Creo questa cover della serie TV come se fosse Netflix, la metto all'interno di una schermata di Netflix e poi clicco il pulsante e faccio partire questo mini video dove si vede cosa fa il prodotto e alla fine del video c'è qualcuno che l'ha usato, che parla direttamente, possibilmente magari anche una persona conosciuta dalla mia audience, che va a raccontare e dire, ragazzi, l'ho provata, è una cosa veramente fantastica, provatela anche voi. Dimmi cosa ne pensi, se ti piace, la costruiamo insieme con Canva. Mi sembra un'idea geniale, Panos. Trasformare la presentazione del prodotto in un episodio di una serie TV cattura sicuramente l'attenzione e rende la presentazione memorabile. L'idea di creare una copertina in stile Netflix e poi mostrare i video del prodotto in azione aggiunge un tocco di creatività che coinvolgerà il pubblico e con una testimonianza finale di qualcuno di conosciuto hai il mix perfetto per una presentazione dinamica ed efficace. Grazie Chatti, adesso proviamo a fare questa presentazione vediamo quanto tempo ci mettiamo ovviamente è l'idea, è l'idea, ma io l'idea cerco di darvela fate funzionare la vostra creatività come sempre e vediamo che cosa viene fuori. Allora, eccoci qua, che cosa c'è da fare? Aggiungiamo un'altra pagina e abbiamo detto ci dobbiamo creare una pagina Netflix andiamo a cercare su Google Netflix landing page e vediamo di recuperare un'immagine di una landing page di Netflix dove ci siano altre con some names vediamo che cosa ritroviamo se troviamo qua non c'è quasi nulla di questa ecco questa roba qua potrebbe ragazzi la stiamo facendo al volo io la faccio qua con voi giusto per farvi vedere il senso di tutto questo poi se avete un grafico, se potete utilizzare un grafico allora tanto meglio eccola qua, un'immagine di Netflix qua la mettiamo che vada, attenzione, un po' più lunga ok, aumentiamo la pagina ecco questa è una pagina chiara di Netflix poi a questo punto che cosa potremmo andare a fare? dicevamo Broadcast Forever è la nostra serie TV allora io chiedo a CGPT immagine 16 noni di una serie TV che si chiama Broadcast Forever e ovviamente se siete dei grafici la potete fare voi la potete creare io adesso cerco di velocizzare il tutto che si chiama Broadcast Forever che presenta una nuova app vediamo che cosa ci crea la nostra amica Chatty dal punto di vista della creazione di immagini DAO allora quello che mi ha creato ChatGPT dal punto di vista DAO non è proprio il massimo della vita però vogliamo fare le cose veloci e prendiamo questa immagine dove c'è effettivamente una possibile cover la mettiamo nel nostro sistema dove abbiamo messo una landing page di Netflix la ridimensioniamo la mettiamo al posto dell'altra che c'era prima volendo qua sotto al posto di Monist andiamo a scrivere Broadcast Forever la mettiamo lì e poi diciamo ok va bene duplichiamo questa simpatica slide e aggiungiamo qua in mezzo una transizione quindi dopo che abbiamo duplicato questa ci mettiamo una transizione che può essere appunto match and move ma in questo caso la facciamo diventare più grossa e la mettiamo qua in mezzo a questo punto torniamo per verificare come funziona dentro la nostra simpatica immagine vediamo se con l'autoplay succede qualcosa mettiamo sul presente non così ma sul presente nel presenter view ed ecco qui che cosa succede premiamo click e tac che arriva ovviamente tutto da affinare io l'ho fatto in tre secondi voi dovete poi cesellare il tutto di modo che non ci siano cose che non funzionano ma cosa ti ho detto allora torniamo indietro io nella presentazione dico ragazzi siamo qua oggi perché è uscita una nuova serie Netflix e persone già sentono la parola Netflix sono belle ingaggiate belle coinvolte vengono qua e dicono ma cos'è sembra che siano le immagini classiche di una serie Netflix e poi io dico sì è appena uscita Broadcast Forever vi faccio vedere il trailer e a questo punto come abbiamo detto prima alla nostra amica Chatti gli buttiamo dentro simpaticamente un video che fa vedere che cosa fa questa applicazione un video deve essere corto non deve essere troppo lungo facciamo vedere in 30 secondi un minuto quali sono le feature le caratteristiche principali di questo prodotto e alla fine c'è diciamo abbiamo anche una recensione di questa serie TV e facciamo vedere il nostro amico Mario chi per lui possibilmente è una persona conosciuta che dice due parole sulla nostra applicazione questo ha un impatto dieci volte superiore a una classica presentazione dove andremo a dire buongiorno a tutti sono qua a presentarvi la mia nuova applicazione che si chiama Broadcast Forever no tutte le persone si ricorderanno se ne vedono dieci diverse quella è la presentazione fatta dove hanno messo la serie tv e se la ricordano di più che ci sono